Schena Assicurazioni Generali Garibaldi Dare nuova linfa al commercio in città e inaugurare la prossima stagione di shopping all'insegna di una rinnovata e vincente sinergia tra gli esercenti. È questo l'obiettivo dell'Unione CTS, che si interroga sulle possibilità di modificare gli orari di apertura dei negozi del capoluogo per andare ad intercettare abitudini ed esigenze dei consumatori, come conferma Manuela Giambelli, presidente mandamentale dell'organismo. È da molti anni che se ne parla, forse, speriamo, chissà, è arrivato il momento giusto di affrontare questo tema un po' più seriamente. Reputo che se noi commercianti, in un numero abbastanza elevato, perché è sempre lì il problema, che se cominciamo in pochi, l'interesse non è così accattivato. Ma se noi dovessimo farlo, nell'immediato non c'è la risposta, ci dovremmo portare pazienza per poi raccogliere i frutti tra del tempo. Ma i trenzano questi. Oggi una città come Sondro si deve diversificare essenzialmente sul servizio. Le proposte sui nuovi orari sarebbero ancora da vagliare, ma, come sottolinea la presidente, fondamentale sarà la collaborazione e la voglia di mettersi in gioco dei commercianti di Sondrio. Che l'intento è di non gravare ulteriormente come costi sulle aziende, per cui di trattenere lo stesso orario di lavoro, solamente spostandolo, dando un servizio e guardando la città ai servizi. Ma orari veri e propri oggi non se ne parla ancora, perché vanno studiati attentamente.